Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Questo Natale sarà diverso per Fedez e Chiara Ferragni, che per la prima volta trascorreranno le festività separati. I piccoli Leone e Vittoria divideranno il loro tempo tra mamma e papà, vivendo il primo Natale in una nuova dimensione familiare. Nell'attico di Chiara a City Life, le decorazioni sono già pronte da giorni, mentre a casa di Fedez domina un'atmosfera più ironica, con un enorme peluche del Grinch in salotto. Intanto, Chiara è volata in Lapponia con i figli e tutta la famiglia al seguito, inclusa la nonna Marina e le zie Valentina e Francesca, per incontrare Babbo Natale. Tuttavia, Vittoria ha dimenticato la sua letterina a casa del papà. Fedez, divertito, ha condiviso la scoperta sui social, leggendo le curiose richieste della figlia, la dettata, però è molto specifica ha detto il rapper, che poi la mostra e legge tutta la lista, vuole un maiale al guinzaglio che beve il latte. Una scimmietta che beve il latte. Una pozione magica. Un unicorno con carrozza. Un cerchietto per capelli gatto, gatto pupazzo, gatto che dorme. Il rapper ha scherzato. Dove trovo un maiale così?